La città di Philadelphia nello stato della Pennsylvania fu fondata dal gruppo religioso dei quaccheri che giunsero in America sotto la guida di William Penn I quaccheri che in Europa erano stati vittime di persecuzione portarono in America una fede incrollabile nella dignità dell'individuo e nella libertà di coscienza e di culto Questo credo è predicato ancora oggi nelle scuole fondate da questo gruppo Una di queste scuole è l'università di Bryn Mawr frequentate esclusivamente da giovanette Da tutte le parti d'America e da molti paesi stranieri giungono a questa università studentesse che hanno compiuto le scuole medie e si iscrivono al corso quadriennale di Bryn Mawr per laurearsi in belle lettere Benché Bryn Mawr sia un'università privata con rette fisse alcune studentesse particolarmente meritevoli possono fruire di borse di studio La missione all'università avviene per concorso al fine di mantenere l'alto livello culturale di questo istituto Quando una studentessa viene ammessa a Bryn Mawr risiede nell'annesso collegio e diviene parte attiva della vita accademica e sociale dell'università Per alcune matricole questa è la prima esperienza di vita collegiale è forse la prima volta che lasciano la casa paterna Le studentesse abitano in dormitori l'assieme degli edifici universitari è chiamato Campus La biblioteca è uno degli edifici più importanti contiene decine di migliaia di volumi tutti catalogati a seconda del soggetto o per autore A mano a mano che l'anno scolastico s'inoltra aumenta il numero delle ore di studio L'aula Magna è adibita quale luogo di riunione e di svago A primavera in quest'aula vengono consegnate le lauree alle studentesse che hanno compiuto il corso quadriennale di studi e hanno superato felicemente gli esami Il curriculum di studi a Bryn Mawr comprende numerose materie Durante il primo anno le studentesse seguono alcuni corsi obbligatori quindi si specializzano nel campo che maggiormente le interessa ma obiettivo di questa università rimangono sempre gli studi letterari Le aule sono sparse nei vari edifici l'ora scolastica è di 50 minuti per dar tempo alle studentesse di recarsi da un edificio all'altro Bryn Mawr conta un numeroso corpo insegnante di professori e professoresse tutti con speciali qualifiche La letteratura inglese è una materia obbligatoria Altra materia essenziale è lo svolgimento di temi in inglese La storia d'Europa è una materia ben più viva degli astratti simboli algebrici La vita collegiale, specialmente per le matricole, non manca di rivelazioni nuove classi, nuovi libri, nuove facce Spesso non è cosa semplice come non sono semplici gli studi di psicologia e di sociologia Nel laboratorio di biologia le studentesse studiano fisiologia e anatomia Questa è materia obbligatoria per coloro che intendono poi dedicarsi agli studi medici Ma la vita di collegio non si limita allo studio Rimane sempre il tempo per la ricreazione, per i divertimenti e per farsi degli amici La notte della lanterna è una festa tradizionale a Bryn Mawr Le matricole ottengono il privilegio di indossare la cappa e il berretto gogliardico Dopo i primi due anni le studentesse già notano grandi progressi Nello studio delle materie da esse scelte, incluse le lingue straniere Le studentesse di francese o di spagnolo possano abitare in dormitorio Ove per fare esercizio evitano di parlare inglese e usano solo le lingue che stanno studiando Le studentesse di geologia fanno le loro spedizioni per scoprire i segreti della natura Le alunne di sociologia si tengono molto in contatto con la vita di fuori E imparano così dalla realtà viva ciò che i libri non potrebbero mai insegnare Le studentesse riferiscono le loro esperienze al consiglio di facoltà Molte di esse un giorno saranno impiegate del governo nei vari istituti di previdenza sociale Spesso professori e studentesse non vanno d'accordo su qualche punto Così ciascuno cerca di convincere l'altro della validità dei propri argomenti Il corso di scienze politiche tratta naturalmente delle teorie che sono alla base delle varie forme di governo Ecco una buona occasione per rinsaldare la propria fede nelle dottrine democratiche Rispettando le diverse opinioni e cercando di risolvere qualsiasi disaccordo con mezzi pacifici Al club delle relazioni internazionali si dibattono le teorie politiche Alcuni studenti della vicina università di Haverford partecipano alle riunioni Non manca mai il reporter del giornale universitario La gazzetta di Brimmar pubblicherà un articolo su questa riunione Tra parentesi questa gazzetta è pubblicata dalle studentesse Altra attività del collegio è la filodrammatica Le alunne scrivono, inscenano, dirigono e interpretano i drammi Dinanzi a un pubblico di appassionati Le parti maschili sono sostenute dagli studenti di Haverford A parte la filodrammatica le studentesse di Brimmar hanno agio di studiare le belle arti Vi sono corsi di storia dell'arte e vere e proprie classi di scultura e di pittura Altre si specializzano in illustrazioni e disegni commerciali Il terzo e il quart'anno sono dedicati alla specializzazione in una materia In chimica e biochimica è necessario il lavoro individuale di ricerca Se il corpo insegnante ritiene che una studentessa eccella nel suo campo Le vengono conferiti premi ed encomi Anche per la fisica è necessario il lavoro di laboratorio Lo sport ha la sua grande importanza nel mantenere in salute il corpo e far riposare la mente Malgrado la pressione della vita accademica Le studentesse di Brimmar dedicano parte delle ore libere alla comune attività di collegiali Brimmar che è un'istituzione democratica è governata da studentesse Elette per discutere regolarmente i comuni problemi Si può trattare di argomenti piacevoli come la data del prossimo ballo O di argomenti seri come l'assistenza all'Europa La campagna della Croce Rossa La raccolta dei fondi per le istituzioni pubbliche cittadine e così via Le decisioni del governo delle studentesse sono sottoposte al corpo direttivo Il quale non solo incoraggia questo interessamento ma tiene sempre conto delle loro proposte Anche la vita di società a Brimmar ha la sua parte importante Malgrado tanti doveri e si numerose attività Gli studi rimangono al primo posto Con l'avvicinarsi degli esami finali Le studentesse ricapitolano i corsi quadriennali E nel campo in cui si sono specializzate scrivono una tesi di laurea A questo punto diviene quanto mai necessario il contatto diretto con gli insegnanti Sia così agio di fare domande Di ottenere spiegazioni Di chiarire alcuni punti La tesi di laurea richiede un gran lavoro di ricerca e di consultazione Se la tesi tratta per esempio la storia antica Il dipartimento di archeologia diviene di prezioso ausilio I professori specialmente con l'avvicinarsi degli esami Accolgono volentieri in casa loro le studentesse che desiderino qualche spiegazione nella propria materia Frattanto i membri del coro del collegio fanno le prove per il concerto che daranno il giorno della consegna delle lauree Non è lontano il giorno in cui verranno consegnati i diplomi E le studentesse di oggi lasceranno l'università per lanciarsi nella vita pratica Ma qualunque sia il loro destino L'insegnamento ad essi impartito dall'università di Brimmar Si rivelerà utile e prezioso Per divenire membri attivi della propria comunità Per avere una visione e una coscienza della vita privata e pubblica Per avere una visione e una coscienza della vita Per avere una visione e una coscienza della vita